agli utenti e ai lettori di nurse times la più cordiale più cordiale benvenuto ben ritrovati con i nostri appuntamenti speciali, le nostre interviste con gli esperti e soprattutto i referenti, i presidenti non soltanto degli ordini professionali infermieristici ma degli enti che rappresentano anche la professione infermieristica. Oggi siamo con il presidente dell'Empapi, Mario Schiavon, l'Empapi è l'ente di Previdenza. della professione infermieristica, noi lo ringraziamo innanzitutto per aver accettato il nostro invito, per aver dedicato il suo tempo a questa chiacchierata che comincio, visto che lo dicevo in fase di presentazione, presidente, c'è stato questo cambiamento, sancito non soltanto dalla legge Lorenzin ma anche adesso da un congresso nazionale che è stato celebrato all'inizio del mese di marzo che ha portato la professione infermieristica a non essere più sotto l'ombrello del collegio ma sotto il nome di ordine. Allora tutti a chiedersi che cosa cambia e che cosa cambierà per la professione infermieristica visto che c'è un nuovo riconoscimento, poi cercheremo di spiegare che cosa cambia anche per la libera professione questo passaggio da collegio a ordine. Il collegio a ordine è solo un aspetto verbale, nel senso che il collegio sotto il profilo giuridico aveva le stessissime caratteristiche prorogative dell'ordine, cambia sotto il profilo culturale sotto il profilo anche del giusto riconoscimento giuridico, nel senso che agli ordini si iscrivono i laureati ai collegi si iscrivono i diplomati, noi eravamo diplomati, dal 99 più o meno sono iniziati a laurearsi i primi professionisti e quindi è chiaro che da quel momento doveva essere trasformato in ordine il viatico è stato un po' lungo e oggi siamo arrivati e quindi è il giusto riconoscimento dal punto di vista della professione, nel senso che questa è una professione che acquisisce una laurea e come tutti i laureati devono avere un ordine. Ed è anche corretto che sia avvenuto finalmente in quanto c'è un pari confronto perché diciamocelo pure che tra gli ordini e collegi il confronto era sempre visto tra fratello maggiore e fratello minore. Quindi questo è il giusto riconoscimento. Diciamo che la professione lo ha vissuto molto positivamente questa trasformazione, è avvenuta anche in concomitanza del primo congresso della FNOPI, un bellissimo congresso, fatto molto realistico, pratico e anche molto ricco di contenuti che sono propri della professori della professione. Quindi io l'ho vissuto con molta partecipazione da spettatore ma devo dire sono rimasto molto positivamente colpito. Questo passaggio lo definiva anche lei culturale, questo riconoscimento della professione infermieristica che è professione intellettuale oltre che professione alla quale si accede attraverso un percorso universitario. Questo passaggio culturale, questo scatto culturale, crede sia vada di pari passo o possa sostenere il cambio culturale anche della professione infermieristica. La racconto in maniera un po' più semplice, la professione infermieristica è vissuta sempre come quella all'interno di una sanità pubblica, eppure noi ci rivolgiamo, in questo momento dialoghiamo con il presidente dell'ente di previdenza della professione infermieristica, eppure la libera professione dovrebbe, anzi è nei fatti anche per gli infermieri. Ritiene che questo passaggio da collegio a ordine possa sollecitare un cambio di passo culturale anche tra gli infermieri? Diciamo che il passaggio ad ordine può permetterci a livello di contrattazione nei tavoli della politica, nei tavoli della rappresentanza, ad ottenere le stesse cose che hanno ottenuti le professioni che hanno già un ordine. Quindi non porre più differenze, secondo me, il mio giudizio personale chiaramente, non porre più limiti sul fatto della connotazione ordine o collegio, ma avere i stessi diritti da laureati di un settore o dell'altro settore, è più che collocarci sotto il profilo del riconoscimento sindacale, quindi siccome gli infermieri sono dentro al comparto, devono stare lì, e collocarci in una condizione di confronto tra professionisti iscritti agli ordini che devono avere pari diritti di rappresentanza, ma pari diritti anche di ottenimento di alcuni provvedimenti che autonomamente ogni professione deve adottare per assicurare l'immagine stessa della professione. Io, per esempio, parlando in alcuni convegni anche con la Presidente nazionale della FNOPI, devo dire che c'è un riconoscimento, e sentendo anche quelli di cittadinanza attiva, c'è un riconoscimento, un salto in più anche da parte della popolazione come riconoscimento nei confronti della popolazione professionale infermieristica, il fatto di aver avuto un ordine, e quindi questo io credo che sia un momento per cominciare a discutere anche sui tavoli per avere i giusti riconoscimenti, anche di carattere contrattuale, non spetta molto alla professione, ma quando io parlo dei contratti non parlo tanto del contratto di lavoro dei dipendenti, ma parlo anche proprio del capacità di contrattare dei professionisti liberi a livello dei diversi contesti dove si trovano. A proposito di questo, i liberi professionisti o chi affronta la libera professione nel mondo infermieristico teme sempre di dover vivere una sorta di vita da precario, è un timore concreto o ci sono le condizioni per rassicurare? Diciamo purtroppo che in questi ultimi 4-5 anni, 3-4 anni, la precarietà ha coinvolto soprattutto certi settori della popolazione e per quanto ci riguardano i infermieri ha colpito soprattutto i giovani. la precarietà purtroppo ha visto obbligare molti giovani a fare la scelta verso la libera professione, ma non è una scelta, mi permetto di dire con estremo rispetto, consapevole, è una scelta quasi obbligata, nel senso che la libera professione era diventata rifugio un peccatorum per poter avere un lavoro e purtroppo un lavoro che ha portato ad un estremo sfruttamento degli intermediari nei confronti della professione infermieristica in particolare e questo è un danno che hanno fatto all'immagine della stessa professione e un danno reale ai giovani in particolare. Noi dobbiamo combattere questo tipo di modalità di intermediario, di intermediariato, non so se si può dire la parola, però insomma per far capire che sicuramente deve essere vista come una grande opportunità la libera professione, anche per i giovani e su questo forse una maggior attenzione anche da parte delle università che formano i nostri giovani, su quello che è l'orientamento al lavoro che non può essere solo quello dell'ospedale, perché ormai la maggior parte delle attività sanitarie si svolgono sui territori e quindi noi dobbiamo preparare sul territorio sia sotto il profilo pubblico che sotto il profilo privato, poi sarà il cittadino che sceglierà se andare dal pubblico o dal privato, questa è una scelta libera che deve essere lasciata ad ognuno, però noi come professione dobbiamo assicurare che i professionisti che mettiamo in campo per l'esercizio della libera professione siano professionisti a tutto tondo e sappiano fare anche contratti, contrattare, il fatto di essere un ordine secondo me questo aiuta, aiuta anche le strutture dell'ordine a organizzarsi per poter dare informazioni e supporto ai professionisti, ricordiamo che gli ordini nascono per le libere professioni, non nascono per i dipendenti, poi sono stati inseriti anche i dipendenti e va bene così perché c'è un maggiore controllo, però ricordiamo che per questi sono stati costituiti proprio per assicurare al cittadino la garanzia che il professionista ha determinate caratteristiche E' un'immagine corretta se volessimo identificare l'Empapi come una sorta di guida di una sorta fratello maggiore, una sorta di padre che accompagna nella libera professione gli infermieri? Allora l'Empapi è l'ente di previdenza e assistenza della professione infermieristica, per previdenza si intende l'accumulo di contributi durante l'età lavorativa per poi assicurare delle pensioni, assistenza significa assicurare l'accompagnamento durante il percorso lavorativo, il sostegno, l'intervenire in caso di situazioni meno fortunate rispetto a chi riesce a guadagnare, riuscire a dare qualche contributo per malattia, riuscire a sostenere gli orfani, riuscire a sostenere gli invalidi, riuscire a dare tutti quei supporti che in realtà noi diamo negli nostri istituti. Ultimamente abbiamo inventato anche un aspetto di sostegno ai giovani che avviano l'attività professionale per esempio, però è dentro questo alveo che noi vogliamo rimanere, vogliamo rimanere dentro la nostra funzione. Certo è che il professionista ha bisogno anche d'altro e molte volte se non lo trova viene all'empapi. L'empapi non dice di no a nessuno, se ha delle informazioni necessarie anche per l'esercizio della professione queste informazioni le dà, ma sono informazioni conosciute, non sono informazioni inventate dall'empapi. Io però ritengo che sia più corretto che dell'aspetto dell'esercizio professionale si occupi la rappresentanza professionale, quindi come è sempre stato detto e come stiamo lavorando assieme la federazione e gli ordini professionali. Per questo abbiamo costituito anche con la federazione una commissione paritetica che sta lavorando da tre anni e auspico che prosegua questi lavori proprio per approfondire i temi di criticità della libera professione, per poi divulgarli e darli come informazioni soprattutto ai giovani che molte volte escono dalle università privi di un'adeguata conoscenza per affrontare questo mondo che in questo momento è sparso di molti avvoltoi che approfittano anche della professione infermieristica oltre che dai cittadini in difficoltà. Vi chiedo un'ultima considerazione, un'ultima riflessione sull'anno, sul 2018 che attende l'ente di previdenza della professione infermieristica perché se volessimo più che tracciare un bilancio ma proiettarci ai mesi futuri che priorità ci saranno? Noi nei prossimi giorni abbiamo approvato il bilancio di consuntivo 2017, quindi ci affrontiamo a chiudere questo anno che è l'ultimo anno di mandato, quindi è un anno che ci vedrà sicuramente impegnati sui territori per informare gli iscritti su quelle che sono state le attività che abbiamo implementato in questo ultimo periodo e anche raccogliere quelle che sono le eventuali istanze che gli iscritti intendono o miglioramenti che secondo me siamo riusciti ad implementare in questi lunghi anni, perché io sono Presidente, peraltro questo ultimo anno è anche il mio ultimo anno di Presidenza perché sarà il mio ultimo mandato, quindi ci sarà anche necessità di proseguire, io auspico in una continuità di quella che è stata la politica fatta da questo ente che è un ente in termini di evoluzione molto positiva, è passata da quando io sono diventato Presidente dai 7 mila iscritti ai 78 mila quasi, è passata dal patrimonio di 23 milioni a quasi 800 milioni, finiremo il bilancio 2018 con questi numeri, non davamo assistenza nel 2003, oggi garantiamo vicino ai 3 milioni, 2 milioni e 7 quasi di interventi assistenziali ogni anno, abbiamo accumulato delle riserve per aver gestito bene i nostri risparmi, il nostro patrimonio e quindi abbiamo garantito un avanzo di amministrazione che si avvicina ai 25 milioni, un avanzo determinato dagli investimenti, quindi dopo aver garantito la rivalitazione dei montanti dei nostri iscritti abbiamo avanzato un'altra trentina di milioni, quindi è un patrimonio che si sta ingrandendo sempre più e che dà buoni risultati rispetto a quello che io personalmente ho trovato come ente. È chiaro che in questi anni si sono fatte tante cose, si è introdotta la gestione separata, per esempio che porta all'interno dell'ente tutte le situazioni di esercizio lì professionale, anche quelle sporadiche, voglio dire quelle che si fanno sporadicamente, che non sono in termini continuativi, ecco perché molti sono anche i dipendenti che svolgono un'attività marginale in libera professione, quindi in collaborazione coordinata e continuativa e questo viene all'interno dell'ente. Siamo riusciti a farci trasferire tutto il patrimonio che era versato all'Inps e versato dentro all'Empapi e in questo modo noi garantiamo in modo cumulativo le pensioni ai nostri iscritti. Quindi ci sono ancora tante altre cose da fare, abbiamo anche l'evoluzione proprio della formazione degli ordini nuovi che vedono quelle professioni laddove esercitino in libera professione versare alla gestione separata dell'Inps, abbiamo già avuto delle interlocuzioni con alcuni che vorrebbero venire all'interno dell'Empapi, questa è un'opportunità che naturalmente l'Empapi mette a disposizione di tutte le professioni per valutare se ci sono le condizioni di creare un unico ente di previdenza e sarebbe secondo me una bella cosa che si crei un unico ente di previdenza di tutte le professioni sanitarie non mediche che potrebbero raggruppare un numero consistente di iscritti ed è chiaro che laddove ci sono tanti iscritti c'è anche una maggior possibilità di dare servizi sempre più elevati agli iscritti stessi. Io ringrazio il Presidente del Papio Valio Schiavone, ringrazio anche i nostri lettori e i nostri utenti per averci seguito in questa intervista, vi ringrazio e vi do appuntamento ad altri appuntamenti e ad altri approfondimenti con l'Arst Times.